Salve a tutti ragazzi, io sono Mickey Mouse e bentornati in questo nuovo video recensione. Ci ritroviamo sempre nella mia camera, questo è il computer ragazzi che trovate in una vecchia recensione. Devo dire, un'ultima arrivata nella postazione... Alexa, Alexa, ciao! Ehi, ciao! Bene, ragazzi non vi ho fatto recensione sopra perché comunque mi sembra abbastanza scontato, ma oggi il vero protagonista di questa recensione è il mouse. Adesso probabilmente sarete vedendo delle immagini appunto che ho già registrato. Questo mouse è della marca In... penso che si pronuncia Inpeak ragazzi. Ovviamente non è sponsorizzato questo video, ci mancherebbe. Ovviamente arriva, basta ragazzi prenderlo su Amazon, è un mouse bluetooth e wireless. Allora diciamo la verità ragazzi che per un mouse bluetooth... ecco adesso ve lo faccio vedere... Ecco, aspettate... ecco qui. Questa diciamo è la sua grandezza. Più o meno una mano ovviamente destro, è destrosso, però una mano diciamo comune e adatta a ogni tipo di mano. Diciamo la verità che comunque un mouse wireless di questa portata non costa meno di 40€, ma il suo prezzo d'origine è all'incirca di 10€ ragazzi. Ecco, adesso qui potete pensare che ci sia lo scam e invece non è scam ragazzi. Per prima cosa potete vedere che già l'ho utilizzato parecchio e appunto è passata quasi una settimana e quindi sono pronto per farvi questa recensione. Allora partiamo dal mouse stesso, abbiamo la rotellina, che questa rotellina comunque non è silenziosa. Da come potete vedere fa un sacco di rumore, però questa non è la parte diciamo più importante, ma sono i due tastini, il sinistro e il destro. Ovviamente ha due tastini laterali configurabili e qui è il tastino dei DPI. La cosa più importante di questi due tastini, sinistro e destra, è che sono silenziosi. Sentite un po'? Quindi ragazzi, questo vuol dire che se per esempio lavorate di notte oppure lo utilizzate di notte o semplicemente anche di giorno e vi dà fastidio quel clicchettio fortissimo, questo mouse praticamente lo eviterà, non ci sarà questo umore forte. La qualità costruttiva, anche i tasti sembra veramente di alta qualità, sono delle plastiche dure e invece qui abbiamo addirittura una superficie che permette un gran grip alla mano stessa e qui i due tastini. Questi qui sono anche un pochino più numerosi. Qui abbiamo il logo e quest'altro lato è praticamente vuoto. Nella confezione c'è praticamente anche il cavetto di ricarica, dove tranquillamente è un cavo USB, basta collegarlo, e il mouse praticamente ragazzi si ricarica qui avanti, cioè praticamente dove si trova la rotellina, basta inserire qui il cavetto e al computer insomma e si ricarica. Invece giriamolo, qui arriva la parte più importante ragazzi, vabbè a parte i gommini per le vibrazioni, qui ce lo dice già stesso il mouse. Prima di ogni cosa qui si accende e si spegne, va bene, è una cosa semplice, ma si può collegare, appunto come potete vedere con i vari tipi di Bluetooth 5.0, 3.0 e 2.4, ai vari tipi di dispositivi. Ad esempio, se io adesso lo accendo, vedete che è collegato quello di 5.0, quindi il Bluetooth 5.0. Questa tipologia di Bluetooth ad esempio l'ho collegata al computer. Adesso è spegne, il computer quindi non si collega. Però se io clicco questo tastino ragazzi, vedete che praticamente ha switchato il LED e semplicemente il Bluetooth. Adesso il Bluetooth 3.0, quindi questo cosa vuol dire? È una tecnologia fantastica. E ragazzi vi ricordo che questo mouse su Amazon, ovviamente chi ha il Prime non paga neanche la spedizione, praticamente il suo prezzo è 10 euro, diciamo 12 euro, dai, se non trovate l'offerta in quel momento. E di solito, come vi ho detto ragazzi, un mouse Bluetooth meno, ma proprio meno di 40 euro, almeno quelli della Logitech e degli altri non vengono. E quindi questo qui è veramente super economico e fino ad ora non mi ha dato nessun problema, il Bluetooth funziona benissimo. Se io riclicco il pulsante, ecco va al 2.4, e io ho risposto al 5.0 e da come potete vedere, quindi può essere collegato con il merenamento al computer, a un tablet o a un telefono, semplicemente switchando i vari LED, quindi insomma i vari Bluetooth, si può collegare a più dispositivi. Io direi ragazzi, una figata astronomica. Per il prezzo che vale, ragazzi ve lo consiglio, come dice anche la scatola, è un mouse Bluetooth e wireless, appunto è un mouse wireless e ha lo stesso tempo quindi anche Bluetooth, quindi non c'è bisogno ragazzi della pennetta, perché anche molti mouse, che appunto vengono 30-40 euro e una somma diciamo stimata, della Logitech, hanno di solito la pennetta, oppure anche del, non lo so, della Trust, insomma ci sono tante marche ragazzi, che hanno appunto la pennettina minuscola per potersi collegare, invece questo qui è libero, cioè ragazzi non c'è niente, è veramente come una scheggia. Un lato negativo che forse ho trovato, se siete abituati a mouse leggeri, ad esempio quello della scorsa recensione non era tanto pesante, questo qui è abbastanza pesantuccio, quindi soprattutto sul tappetino che fa attrito, è un po' difficile da spostare, però ragazzi ve lo consiglio assolutamente, questo qui ci si fa l'abitudine, ad esempio già ho fatto l'abitudine e va da dio, non perde mai un click, un colpo, la rotellina va perfetto, i DPI si sentono, ed è troppo bello che io posso collegarlo anche a più dispositivi, tutto questo ragazzi per 12 euro, io direi incredibile, non mi dà appunto come ho detto, è pesante, quindi non mi dà una sensazione di fragilità, oppure di mal costruzione, da come potete vedere, come vi sto facendo vedere, insomma è veramente veramente costruito in maniera egregia, devo dire, e quindi che posso dire, ve lo consiglio, ecco questo è tutto quello che viene dato nel pack, ecco qui, non fate caso i cavi dietro che appunto sono quelli del microfono, eccetera, ancora non ho fatto un cable management, ma sì ragazzi, ma perché comunque siamo su un po' il computer portatile, quindi non ci sono troppi fili, ecco come dire, quindi non servo un cable management, ed ecco qui, ci sono i led dietro che sbarlucicano un po', perché ragazzi comunque sono con il telefonino ancora, e quindi devo dire, apprezzatissimo, siamo oltre, oltre, oltre che la sufficienza, ma veramente oltre, perché è veramente un buon mouse, gli ha portato qualità a prezzo ragazzi, allora ripetiamo di nuovo i lati positivi, in primis i tastini non rumorosi, perché chi dà fastidio veramente è insopportabile, un buon grip, una buona qualità costruttiva, devo dire, questi tastini, sì, sono un po' rumorosi, ma neanche troppo ragazzi, come anche la lotellina è molto buona, qui ovviamente è, come posso dire, ruvida, insomma, sempre per il grip del dito, ha un sacco di DPI, adesso non ricordo il numero preciso, però sono veramente un sacco, ci sono tante opzioni, c'è un cavetto di ricarica, e soprattutto non ha bisogno dell'uso della pennetta, e la cosa più importante, che insomma rappresenta anche la tecnologia distintiva di questo mouse, è il triplo bluetooth, che insomma si può collegare a tre dispositivi differenti, è veramente spettacolo ragazzi, cioè io da un momento, basta che clicco il pulsantino, posso passare dal mio computer al tablet per dire, e così continuo a fare quello che devo fare, ecco, per esempio, non lo so, devo spostare un video dal computer al tablet per dire, lo sposto, e poi mi trovo meglio con il mouse, e decido di utilizzarlo, cliccando solamente il pulsante, c'è di nuovo il mouse sul tablet, e non più sul computer, direi incredibile, quindi ragazzi, che dire, per questo video recensione è tutto, ricordatevi comunque di iscrivervi, attivare la campanella, e guardare la descrizione del video, lì trovate il link ai social, e soprattutto a Instant Gaming per supportare il canale, cosa posso dirvi, vi consiglio questo mouse assolutamente, anche per l'esempio di rapporto qualità prezzo, per questo video recensione è tutto, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!